La Valle d'Aosta è una regione autonoma, lo ribadisce la regione. In questo modo possiamo mantenere bassi i prezzi dei pedaggi autostradali. Ma non mancano le polemiche, autonomia sì, ma i turisti non sanno dove siamo e vanno in Trentino. La regione tenta così di rilanciare il tutto con un piano infallibile. Costruiremo più casino! Una pattuglia ha fermato un gruppo d'italiani che stava attraversando il traforo del Monte Bianco dopo una fagiolata. Nonostante la legge lo vieti espressamente. Gli uomini, già noti alle forze dell'ordine per aver scorreggiato in ascensore il 15 luglio 1996, sono stati sottoposti a un duro trattamento di carboni attivi. Un episodio da stigmatizzare. È stato ritrovato un bollino della banana in mezzo a un sentiero. Non accadeva dal 1970. È stata così mobilitata la guardia forestale, i vigili del fuoco e l'azienda investigativa comunale. Per motivi di sicurezza, scuole chiuse e rinviata la serata di coprifuoco in piazza. Poco più di 133 citazioni sul web della nostra regione e la metà reindirizza altrove suggerendo Forse cercavi Trentino Alto Adige. Pronto una manovra di 133.000 centesimi di euro per riportare al primo posto la Valle d'Aosta sul web ricercando Valle d'Aosta. L'amichevole tra Borga roccato di sopra e Strada chiusa di sotto non si è potuta disputare. La squadra di casa non aveva sufficienti giocatori in campo e ha dovuto far turnover tra di loro e mettere in porta un muflone. Peccato che i mufloni siano illegali e sono stati tutti arrestati per traffico illegale di animali non autoctoni. Meteo Flash Meteo Flash è stato presentato da Questo programma è stato presentato da Segui e commenta Canale Test su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, MySpace, Netlog e altri social dismessi.